Grazie a tutti. Oggi siamo qui nella partita del Bari Catanzaro Serie C, formazione del Bari, nel frattempo in panchina, per ora 1 a 0, formazione del Catanzaro, scusate. In panchina, per ora le uniche informazioni che possiamo avere sono queste. Cerco di vedere se da Google si può vedere qualcosa. Ok, il Bari ancora in il cavo, sopra tutti quanti. Ok, allora, vediamo se qua si può vedere niente. Sempre la stessa, sempre la stessa cosa di formazione. Cronaca, ok. Non tenunci, ha segnato l'1 a 0. Meno male che oggi Google ci può dare più informazioni. Comunque, per ora si può dire che comunque sta andando bene questa grande partita. Purtroppo la scorsa partita non è stata molto bella per il Bari. Grazie.